Sì, la gente, bella gente c'è, le braccia si alzano al cielo, divertitevi pure! E se vi va bene regaliamo 5 compilation, oggi come dimmi! Due bellissime ragazze scenderanno in pizza tra di voi, ci sono le telecamere di Match News in questo episodio, riprendendo tutti quanti! Grazie a tutti!